Bella a tutti ragazzi siamo in Val di Sole Io sono Riccardo Wender E io sono Aronangeli Siamo qua per fare la preview per la Coppa Italia di Downhill che si trarrà qui il 22 settembre Course preview, let's go Ecco si parte sulla Black Snake Viego pezzettino con questo ponte Poi si entra nella ski.it Ci sono queste due curvette un po' sketchy Questo è solo il nostro secondo giro quindi non sappiamo ancora bene le linee Siamo entrati sulla Wild Gripply e adesso si gira giù nella Black Snake Wild Gripply e tutto fresco si entra nella Golden Eagle Wow Poi, Walt Gritney, anche qui c'è un pezzettino bello fresco, salto, si entra nella Black Snake, belli veloci perché qui c'è il Trentino Jump, bisogna tirare la spu. Si entra nella Wild Gridley ancora un'altra volta. Ci sono queste belle curvette strette. Golden Eagle. Poi qui c'è questo nuovo pezzettino. Anche questo bello fresco dove si può anche stare interni. Poi si arriva sul Farcross e si va dritti su questo droppettino. Poi dentro per l'ultimo petto della Black Snake. Questa è la course preview per la Coppa Italia di Downhill qui in Val di Sola. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima.